www.microsoft.com E che cosa vuole? La cauzione di Jessup Dolly è pagata, non si è visto in tribunale Papà non scappa Jessup ha firmato i documenti Se non si presenta al processo voi perderete la casa È così che funziona Avete un posto dove stare? Lo troverò Io lo sto cercando Le ho detto che lo troverò Quello sbirro è dalla caccia a Jessup Tu sei dov'è? Se lo sapessi non glielo direi Devo scovare papà e farlo presentare Non lo dovresti fare È il tuo unico fratello Non so dov'è ora E non andrò neanche in giro a chiedere dov'è finito Chi saresti tu? Mi chiamo Ree, mio padre è Jessup Dolly Non ti sarai messa nei guai, vero? Ho un dannato bisogno di parlare con lui Quando parli hai dei testimoni? Tra quanto ci sbattono fuori dalla nostra proprietà? Conto che ci resterete ancora una settimana Hanno trovato la macchina di Jessup Le hanno dato fuoco Lui non c'era Ci sono persone che dicono che devi stare zitta È meglio se le ascolti Scendi da lì e metti le mani in vista Il nostro momento è arrivato Ci sono cose di cui non devi più avere paura Giù le mani Lascia mia sorella Entrate Vattene Sei stata avvertita E non hai ascoltato Perché non hai ascoltato?